Caprari pronto alla battuta. Palla dentro, poi il tiro e il gol di Quagliarella che porta sull'1-1 il risultato, il pareggio della Sampa al 38esimo minuto. Fabio Quagliarella, sempre lui il più veloce a ribadire in gol dopo il tocco di Praet. Ed è di un campano il gol del pareggio.